Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio del Let's Play di The Sims 3 Stiamo osservando un esemplare di Drew che sta armeggiando con il PC Intanto è arrivata anche la sua simpatica mogliettina nuova, ovvero la nostra simpatica Annie, eccola qua E intanto lui sta per rispondere al telefono ma loro amoreggiano Stessa cosa non si può dire per questi due, perché in realtà Malinda e Aaron sono sempre i pericorti Aaron che avrebbe bisogno anche di qualcosa, per altri due giorni avrà ancora il tradimento Sì lo so, sto registrando di fila tutti gli episodi, quindi in realtà non vedo l'ora che passi tutta la crisi Ma abbiamo dei bambini, intanto Narcissa non interessa, abbiamo dei bambini, vi dicevo, che giocano qua in giardino Mentre piove, mentre l'estate passa e arriva e pensavo di concentrarmi anche in questo episodio sui bambini Intanto ho comprato un qualcosa per loro, ovvero il bel tavolino Direi che possiamo fare un bel, imposta il prezzo di tutta la merce Direi che possiamo fare, ma sì dai, lasciamo tutto così E impostiamo anche occupati del tavolo, vediamo un po' E soprattutto capiamo anche se raccogliamo del denaro Quindi intanto se io faccio così, mi da l'interazione, vai qui intanto Ok, brava, così e facciamo occupati del tavolo Non fa nulla, proviamo raccogli del denaro, eccolo qua E non c'è nulla, e infatti intanto l'amico immaginario c'è sempre È inutile che tu stia anche un po' così triste Anche perché sono le 19 e pensavo di andare con i bambini al parco Così vediamo un po' di interazioni anche nel parco Intanto dona, no, non ci interessa Le ha ripreso tutto, benvenga E allora aspettiamo un attimo e ci andiamo domani In tutto ciò, lei ha fame Quindi potresti venire qua ad aprirmi il tavolo E guardate un po' quanta roba c'è Dai, prendiamo una bella fetta per la nostra bambina Vediamo un po' il bambino come sta messo con i bisogni Ha solo bisogno di andare a dormire E io vi ricordo, lui intanto sta dormendo qua Che non ho ancora messo i letti Intanto sempre vado in alto per impostare la casa, eccetera Perché faccio confusione tra The Sims 3 e The Sims 4 Come il mio solito Quindi direi che possiamo anche arredare un attimo Una cameretta per i bambini Molto molto easy, molto molto velocemente Magari la facciamo qua, perché no Questo lo togliamo E facciamo almeno un posto letto per loro Perché se lo meritano Ok, dai, ho preparato un qualcosa di molto molto rudimentale Però mi piace perché in realtà Ecco, impostiamo la proprietà del letto E lo facciamo per il nostro Antonello Che va a dormire qua Mentre la bambina dormirà quassù Secondo me è carino Anche perché loro in realtà Anche lei ha bisogno solo di dormire Dicevo, in realtà loro sono come fratello e sorella Che ho fatto, no? Devo impostare la proprietà del letto Per noi Ok, perfetto Sì, assolutamente Quindi dormiamo qua E intanto li mandiamo a dormire i nostri due bambini Ora, voglio vedere un attimo Il mercoledì domani vanno a scuola Non so bene se mandarli oppure no Magari li mandiamo E dopo la scuola Li mandiamo al parco A fare tutte le attività del caso E soprattutto Perché no Facciamo anche un po' di scherzetti In questo episodio In tutto ciò ci raggiunge anche l'amico immaginario Che torna ad essere un bel peluscio Quel che è E quindi torna ad essere un giocatore Niente più Intanto lei dovrebbe anche andare a farsi un bel bagno Lui sta bene Stanno recuperando un po' Lei che ha? Lei ha fame Ha fame e sta dormendo con il nostro Aaron Quindi in realtà un pochino la relazione L'abbiamo recuperata Non troppo Ma stiamo facendo dei passi avanti Io ricordavo però che qualcuno Proprio lei esatto Aveva nell'inventario la torta E io direi che possiamo anche ripulirla Visto che non possiamo farci altro E però pensavo di aprire E possiamo mangiare qualcosa A tofu? Beh si dai Prendiamo una porzione No in realtà no Dobbiamo cucinare per forza qualcosa Prepariamo la cena Magari facciamo maccheroni e formaggio per tutti dai Mentre faceva il cibo Ha cominciato a puzzare La nostra malinda Che ha fatto il pasto solo per lei Devo dire complimenti per la generosità Cara la mia simpaticona E allora facciamo un pasto veloce Magari con lui E facciamo un pane e marmellata Dai Poi mandiamo a fare una bella doccia a lei Perché come vedete ne ha davvero bisogno Magari facciamo una bella doccia Ok Come vedete l'interazione Fai fichi fichi è ancora bloccata Perché loro Devono ancora mettere a posto la loro relazione In tutto ciò i bambini come stanno? Stanno bene E allora si dai Un po' di pane e marmellata Anche per te Sì E anche per la bambina Una bella colazione No in realtà la bambina Ha bisogno di farsi una bella doccia E allora sai cosa Vai qua e ti fa una bella doccia Molto veloce Cara la mia Simpaticissima Emi Tanto dormono tutti Che bello che bello Ok Lei ha recuperato un po' il sonno Aspettiamo Lui invece Stanno andando a mangiare Perché ha fame Ok Loro stanno Decisamente bene Se anche lui dovrebbe farsi Una doccia Quindi fai pure la doccia Aspettiamo un attimo La bambina Ok Ha recuperato per bene Quindi il nostro amico immaginario Si risveglia E si teletrasporta Ok Che cos'ha? Amichevole Facciamo un bel chiacchiera Forza Dobbiamo stare attenti E il compleanno di Annie Pausa Non è vero Non è vero mai nella vita Ok Devo rimpostare un po' di cose Ok Credo di aver recuperato Ho rimpostato tutto Perché quando io faccio L'aggiornamento di driver Della scheda video Mi rimposta tutte le Come dire Opzioni di default Del gioco Quindi mi sono scordato Di rimettere tutto in ordine E stava succedendo Un bel patatrack Intanto Allora stanno dormendo Ok Davvero Me la son vista brutta Fai una bella doccia Care Annie Ah ma aspettate Allora E' stato molto furbo L'amico immaginario Ci ha teletrasportato Nel balcone Che non ha In realtà Una porta d'ingresso Perché appunto Dovevo ancora aggiungerla Che bello Avere un amico immaginario Così E vabbè A questo punto Allora prendo questa Faccio un minimo passaggio Verso la stanza E dire che ci sta E risolviamo il tutto Credo sia Perché non abbiamo Beh Fatto troppe interazioni Con lui Probabilmente ci fa Dei dispettucci Il nostro amico immaginario Per favore Cara la mia Emi Fate una bella doccia Intanto tutti vanno a lavoro E con i bambini Che dovrebbero andare a scuola A breve Lui sta andando Sì Perché è un bravo bambino Molto bene No Non voglio che vai a casa Voglio che vai a scuola Grazie Intanto lei va a scuola Sì Perfetto Dai E stanno anche bene Quindi siamo riusciti Dopo che finiscono la scuola Direi che possiamo andare in giro Un po' a vendere Della limonata E soprattutto Vedere un po' Di cose Con i nostri bambini Anche in questo episodio Lavora a sodo E studia a sodo E vuole avere dei gemelli Avere in tutto Due bambini Te lo sogni Te lo sogni Intanto Fra un'ora Eccolo qua che va Perfetto Diciamo che intanto Che i bambini sono a scuola Magari occupiamoci Di qualche incendio con lui Perché è da un bel po' Che non vediamo le cose Del pompiere Quindi Per prima cosa Mantieni allo 0% Come vedete Dobbiamo un po' recuperare Perché l'abbiamo un po' trascurato Mantieni allo 0% Forza Aaron Lavorami sodo Perché magari ci scappa Un'emergenza Che non abbiamo ancora visto E magari è l'occasione giusta Per farvi vedere le interazioni Con un alto livello Di roba In tutto ciò Lui sta ancora male In quietudine Tradimento per due giorni Insomma Le solite belle cose E infatti abbiamo Un'emergenza Quasi subito Rispondiamo all'emergenza Vediamo un po' Cosa c'è Grande incendio in casa Ok C'è solo questa D'emergenza Sì E allora Rispondiamo a questa E vediamo un po' Di fare il grande incendio in casa Vediamo un po' La musica cambia Lui sta anche partendo Molto bravo Ok E vediamo subito di capire Come comportarci Allora Per prima cosa Possiamo anche spegnere Credo l'incendio Che vedo da queste parti Ok Ne vedo uno qua Per favore Spegni Grazie Spegni il grande incendio in casa Grazie Spegni questo E spegni anche questo Molto molto velocemente Perché come vedete Ci sono anche dei sim Che sono rimasti dentro Quindi per favore Fai uscire subito Dalla cella L'agente di polizia Che sta combinando Antonello Non lo so Forza Forza Aaron Occupati di tutto Poi dobbiamo anche Sfondare la porta Ma lo possiamo fare Una volta che l'incendio Sarà domato Bravo così Forza Ora possiamo sfondare la porta E andare a salvare Un po' tutti Ora Dove sono i sim Sono da questa parte Beh questo lo possiamo Anche raggiungere Convincio a correre Molto bene Molto bene Abbiamo ben Due sim Uno è qua Ok Sfonda la porta No ce l'abbiamo fatta Ah che fa Guarda la tv No Convincio a correre L'abbiamo fatto E ce n'è un altro qui Forza Aaron Sfondami la porta Grazie Molto velocemente E convincio a correre Basta le notifiche Così almeno Facciamo tutto Bravo il nostro Aaron Ok L'ha convinta Sì Uh 1400 simoleon Dovremmo aver risolto Tutto ragazzi Dovremmo aver fatto L'emergenza Per benino Stavolta Intanto arrivano Anche i figli Che si mettono a studiare fuori La classica cosa Non è mai successo nulla Non è appena scoppiata la casa In un incendio Eh no no Tranquilli Comunque lui ha fatto tutto Sta conoscendo un po' di gente Ma dobbiamo tornare a lavoro Mentre Ennio ha un lavoro disponibile Vediamo un attimo Cosa abbiamo sbloccato Con i fantasmi Già che ci siamo Abbiamo presenza di fantasmi Che non abbiamo ancora visto Forse ragazzi Qua abbiamo presenza di fantasmi Ma no dai Facciamo questo Quindi trova Elimina i fantasmi E poi come vi ho detto Se anche i bambini Sono già tornati da scuola Poi andiamo a fare Delle belle robe Intanto notare che la casa È bella e inquietante Come al solito Forza cara Ennio Eh l'ho visto il fantasma Eh l'ho visto l'ho visto Arriva la nostra Ennio Dovrebbe Ciao come va eh Ciao 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 Ok Eh entriamo Cerca fantasmi Perché Io l'ho già visto il fantasma E sono sicuro che è da queste parti Perché l'ho visto Scomparire un attimo E intanto tutti hanno paura eh Trova i fantasmi Zero di due Quindi dobbiamo trovare due Non è neanche troppo difficile L'ho visto Salve signor fantasma Tranquillizza Riguardo i suoi cari Lo facciamo Probabilmente sarà anche Abbastanza arrabbiato Sfratto i fantasmi Ma facciamo le cose con calma Dai La vedo abbastanza tranquilla Parla della vita Vissuta in pieno Esilia con l'esiliatore di Benji È sicuramente l'ultima spiaggia Noi proviamo ad esiliarla In modo normale Se riusciamo Eccolo qua Che andiamo a parlare con il fantasma Come va tutto bene Tutto bene Sì In realtà è molto arrabbiato Convincio a passare oltre Non credo Ci darà scolto il fantasma Ma io ci provo come sempre Intanto Rigu È stato anche promosso Nella carriera medica In tutto ciò GG Ma noi ci occupiamo del fantasma Che non vuole passare oltre Quindi faccio così E la faccio molto molto facile Perché con l'esiliatore di Benji Non avrà scampo Quindi Annie Per favore Generami anche Esatto La ripartita del fantasma E andiamo a cercarne altri Prendiamo a ricercarli qua Ricercarli qua E a ricercarli qua Perché sono le altre tre stanze Intanto cambio la grafica Per capire un attimo Che succede Forza signor fantasma Bravo così Ok Cattiva ricezione Ripaga sul televisore No grazie Forza Annie Mi trovi gli altri fantasmi Dovrebbero essere due Anche se in realtà Il letto è un po' sfatto Potrebbe anche suggerire La presenza di un fantasma Non si vede niente Perfetto Non è questa la stanza Andiamo nelle altre Bravo andiamo in bagno Il giovanotto doveva essere morto Di paura Ok Buona sapersi Non si vede niente E allora in camera da letto Credo eh Altrimenti è fuori in giardino Potrebbe essere Intanto Ma credo di trovarlo qua Eccolo qua Credo di aver visto qualcosa eh Forza Annie Impegnati Salve Come va La stanza è diventata freddissima Si può avvertire Una presenza sovrannaturale Lo so Se lei ora Mi Come dire Lascia lo spirito Di Ikea Che la Eh brava Brava È morta a fulminata Parla della vita Vissuta in pieno Beh che dire Credo se ne sia andata In un lampo Le risaglie Perché è morta Con un fulmine Che bello Ed è anche una sim Di qualche epoca Passata Perché l'abbigliamento Mi suggerisce questo Convinciamola a passare oltre E infatti Perché è arrabbiata Da morire Comunque È arrabbiata Nera Eh va bene va bene Eh signora Vittoriana Così Tanto per Ok Può trapassarmi Oltre Grazie mille Grazie Le sarei grata In tutto ciò Sono le 22 Stavolta i bambini Non li mando a scuola Domani Perché altrimenti Non riusciamo a fare le interazioni Vada via Vada via Grazie Brava E dovremmo aver fatto tutto Eh Vediamo un po' Ok È compleanno di pausa Perché io Non ho impostato L'età In realtà Lunga Per quanto riguarda gli adulti Quindi lo rifaccio E infatti Adulto Adulto Adolescente Giovane adulto In realtà non può Esatto Mancano 210 giorni E il nostro Aaron Mi sta diventando adulto Così A muzzo Se anche le impostazioni Non sono quelle E mi sta diventando adulto A casa delle persone Che ha salvato Dall'incendio Notare anche gli occhi Un po' stranunati Di questo sim Che ha dei problemi Beh Almeno è stato Un compleanno Ricco di ospiti E va bene Ora Mi diventerà anziano Fra 450 giorni Quindi non ho un grosso problema Ma Ma si torna Da Enni Allora Sta succedendo Qualc'quadra Che non cosa Il fantasma Dovrebbe essere Dentro la bottiglietta Della Benshi E invece È fuori Che ci festeggia Bello 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 così Che bello Quando mi passano D'età i sim Quando io non voglio Compleanno Enni ora è un'adulta E si comporta come tale Almeno ogni tanto Finché non ha ancora tempo Deve pensare seriamente A come consolidare La sua carriera E la sua vita familiare Datemi il tempo Per dire Che bello Che bello Anche Enni Mi diventa Adulta C'è qualcun altro Che vuole passare d'età Così a muzzo No sapete Perché intanto In tutto ciò Io posso Grazie Ok Il lavoro l'ho fatto Ho già preso i soldi Ma come regalo Di compleanno Visto che io Mi posso permettere Di passare d'età A differenza tua Cara la mia signora Vittoriana Di miei stivali La vorrei anche esiliare Da questo mondo No lo so Lo so Che non vuole Ma sai Per il suo bene La mando nella soul society Se figuri Va bene va bene Vada vada Grazie mille Ciao Grazie La casa è tornata Di un colore Abbastanza decente Ma non la mia famiglia Che come sempre Vive nel degrado E allora Visto che notti I bambini stanno Molto molto bene E visto che Ormai Tutti sono passati d'età Sapete cosa Io farei un qualcosa Del genere Per festeggiare I compleanni Vorrei fare Qualche piccolo scherzetto Con il bambino Che so tipo Sento qualcosa Che si muove E l'ognomo Che mi lascia Assimoleon Grazie Ma avresti lasciato Qualche giorno in più Per decidere Quando farli Passare l'età Ti sarei stato grato Ma purtroppo Sei inutile Piazziamo un bel congegno A sorpresa Computer pauroso Cominciamo a fare Gli scherzetti Con i bambini Dai Così vediamo un po' Come si comportano Vediamo un attimo Qua possiamo anche fare Piazza un congegno A sorpresa A tintura Nella doccia Piazza una trappola Per personalizzata Ma che mi dici Mai Perfetto Perfetto Ma lo voglio fare Anche con Emi Perché non voglio Che sia solo uno Il cattivo No Devono essere cattivi Entrambi In tutto ciò Lui sta dormendo Ti puoi anche svegliare Per favore Mettimi il congegno E non passarmi l'età Anche tu Oh grazie Finalmente posso dormire La notte Senza sentirmi Osservata da spiriti spettrali E anche da persone Che vengono a casa tua A festeggiare il compleanno Random Penso un po' che culo Intanto il bambino Però mi ha messo Uh salve Salve Sei adulta Sei adulta E' giusto Che tu ti faccia Una cultura Devi essere colta Devi allevare i tuoi figli Per favore Controlla il meteo Non so se funziona Con tutte le interazioni Ma noi controlliamo il meteo Secondo me sarà un bel pomeriggio Di Non lo dico Trasferirsi In una casa nuova E certo Magari te lo faccio Come il regalo di compleanno Quando deciderò Quando passerei d'età Intanto Salve Salve Signora Enni Salve Grazie Uh è vestita di tutto punto Dal lavoro Ha un po' di bisogno Di igiene Ma magari facciamo fare A lei una bella doccia Perché no E magari la prepariamo La doccia Una bella doccia Calda e sensuale Come la nostra bambina Uh Uh oh 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 Eh già Computer pauroso Beh che dire Enni In realtà Ho scelto una persona Sbagliata Perché lei vede i fantasmi Quindi vedere qualcosa Di pauroso Al computer Non è il massimo In tutto ciò Sappiamo che Grandinerà Ci sarà il sole Pioverà Ci sarà il sole Le solite cose Molto bene Intanto Enni Ha davvero bisogno Di una doccia Però adesso c'è la tua bambina in casa, quindi non possiamo fare nulla Enni, devi aspettare un pochino aspetto un attimo, la bambina ha fatto sì, e allora per favore fate una bella doccia, cara la mia Enni che vedo che ne hai tanto, tanto bisogno, per favore Malinda grazie, andate via tutti, grazie è una questione di igiene la mia, grazie brave così le mie coinquiline dei miei stivali, finalmente finalmente, intanto vittima di uno scherzo per 10 minuti ha anche un po' di fastidio, e finalmente oh, guardate un po' che bella doccia, oh si sta lavando molto bene, ha i capelli color uovo sbattuto, ma sono dettagli anche perché questo è lo scherzetto di sua figlia, pensate un po' che bello l'amore familiare, ora però, visto che Aaron ed Enni, che sono i nostri due primi conquilini si sono anche, come dire permessi di passare d'età a mia insaputa direi che anche Aaron sarà vittima dei nostri scherzi, non ricordo quali e quanti siano gli scherzi dei bambini, lo scoprirò e li vedremo tutti in questi episodi intanto, lei oh, ha visto la sua tinta, si e ha deciso di restare così anche perché ha un po' di fastidio per lo scherzo ok, la sua faccia diceva tutto aveva gli occhi spalancati, va bene caro il mio bambino invece, che sei tanto bravo e tanto bello in tutto ciò ok, lei si sta lavando, vai pure a piazzarmi qualcosa sul divano, anche perché tuo padre in realtà è da mo' che va a dormire sul divano da quando con tua mamma non va bene, purtroppo si, la tua famiglia ha qualche problema ma tranquillo, risolveremo tutto, anche perché il tuo caro papà è anche abbastanza arrabbiato per dieci ore, ha fame ma la fame si sa, tutto il giorno in piedi a pranzo un panino, non ci vede più dalla fame e non abbiamo una fiesta ma possiamo almeno sederci sul divano, così almeno recuperiamo un po', anche perché l'ho lasciato nella sua stazione, vedevo oh, finalmente, eh no però, per favore, eh no, e io non ti posso guardate un po' che il nostro simpatico Aaron si siede sul divano e comincia a fare peti guarda un po', e non va bene per favore, un po' di carineria nella casa, ah 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 visto che però sono le 5.59 del mattino l'ora ideale per cercare delle robe, direi che possiamo intanto venire da queste parti anzi, in realtà, devo trovare e mi confondo sempre con dei Sims 4 per quanto riguarda il menu dicevo, devo trovare, esatto, la scatolina perché vi avevo detto che questa scatola è importante su Generation perché permette di trasformare i nostri sim in tirannosauro, astronauta, principe o principessa facciamo magari grigio, cavalleresco rosso reale, blu, eroico perché no? e lo facciamo anche con la nostra Amy facciamo giustamente la principessa lavanda lussuosa vediamo un po' come si trasformano i nostri bambini perché poi andiamo a giocare con la casetta sull'albero ecco la quale che si trasforma lui invece vuole solo dormire ma no, io vorrei chiamare il nostro simpatico ah, dov'è qua? perfetto in post no chiama il sim fotografa no, io vorrei prendermi un giorno libero da squadra guardate un po' lei quanto cammina a trionchia molto bene la mandiamo qua a giocare dai un nome no gioca al castello la principessa e il povero molto bene e poi eccolo qua il nostro bel principino che la può raggiungere e giocare anche lui quindi organizza una festa no è proprio qua che lei arriva possiamo partecipare chiedi di salire eccolo qua lui intanto sta andando in bagno lo so i tempi sono stretti devono andare a scuola ma questo passa in convento e direi che possiamo vedere un po' tutte le cose vedete che ora ha più senso il nostro castello perché lei è vestita da principessa dovrebbe arrivare anche il bambino no non gliene frega nulla infatti lui sta lavorando sodo e allora la bambina può anche seguirti molto bene vai a scuola vestita da principessa che non vorrebbe quindi grazie no in realtà ha avuto la decenza di cambiarsi studia sodo anche tu ma la mia malinda vedo qualcosa di giallo brutto qua a terra paghiamo le bollette 508 e soprattutto quel mio Aaron vai qui e la mia malinda vai qui grazie voglio capire come riparare ancora la loro situazione lui dovrebbe andare a lavoro eh eh no è seduto che mangia sai chi se ne frega di sua moglie no vuole andare a lavoro intanto si incastra anche nel lavandino devo dire che questa puntata sta andando molto molto bene tra bug i compleanni mancati insomma tutto quello che volevo fare qua loro intanto hanno un umore molto molto euforico sono veramente euforico è ormai passato tanto tempo perché loro scherzi sono riusciti quindi gg e in tutto ciò sono già le 13 e 20 dovrebbero tornare a scuola davvero tra poco in tutto ciò poi se la posso buttare da qualche parte non sai perché nell'inventario non mi fa proprio il massimo del piacere averla quindi magari ecco ripulisci grazie il calore è insopportabile ormai ho perso la speranza ma forse tu puoi salvare tutte le mie cose va bene i grandi incendi in casa sono stati spenti risultato voto 10 oh bene bene non si parla neanche di cucina Aaron Mok non sembra Aaron Mok non sembra interessato a recuperare la relazione ha deciso di troncarla fra loro non esistono più legami romantici cosa no separati un gran paio di balle no 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 allora Aaron Mok ha deciso no allora non è Aaron Mok che decide Maruko che gioca al gameplay di The Sims 3 no io non puoi accetta la separazione da ragazzi aspettate eh no perché questo non lo capisco loro stanno facendo tutta di sua sponte ora qualcuno mi cerchi Barbara parombelli qua da qualche parte perché devo capire dove sta il giudice di forum stanno facendo tutto da soli eh sì ci separiamo eh sì e lei ha fatto così come per dire eh vabbè è la fine di un'epoca ma che epoca siete rimasti sposati due episodi scarsi maledetti eh speciale amichevole eh racconto una storia sì la vostra storia d'amore che è durata tantissimo loda certo amichevole condividi un segreto condividi un segreto chiedi della partita chiedi anche della mia di partita se continuate a fare quello che volete tra cui compleanni separarvi sposarvi fate anche dei figli già che ci siete eh tanto per e voi due bambini tu credi di andare a fare i compiti di tua sponte cioè tu vuoi essere una brava studentessa cara la mia Emi no per favore no direi che a questo punto io vi sporco un attimo posso decidere qualcosa da fare io per i bambini no sai magari intanto vai qui grazie andiamo con i bambini perché voglio vedere un po' scherzi a parte tutti i giochi è un bel episodio movimentato questo non ricordavo che The Sims 3 fosse molto molto più come dire vivo rispetto al 4 da questo punto di vista anche perché i sim restano incinta fanno figli si separano si sposano nel nostro open world cosa che su The Sims 4 non succede quindi in realtà è molto più completo da quel punto di vista The Sims 3 però comunque va beh oh c'è anche un bambino salve vai qua disputa una lotta con i gavettoni no aspetta vai qua grazie potete darmi retta grazie ve ne sarei grato eh magari che fa sta andando a mangiare una granita oh bene bene sono contento vuol dire che aveva bisogno di mangiare nessuno dice nulla sono felice per te ma per favore te lo chiedo per favore ora alimentati perché no possiamo fare disputa una lotta con tutte queste persone ma sì dai sono tutti adulti noi siamo due bambini vuoi che non ci facciano lasciar vincere ma sì credo siamo tutti molto contenti di tutto ciò ovviamente l'interazione non parte lei sta facendo partecipare a una gara di divoramento tutto da soli cara la mia Amy vediamo un po' credo vincerà lei guardate un po' che lei è già a buon punto si sta anche strozzando normale amministrazione c'è anche un simpaticone molto molto ricco c'è anche la sua no ha vinto lui non va bene diciamo c'è credo una collega di Aaron ma soprattutto anche una cameriera eh sì è bello quando ti danno un'ora libera da lavoro sta andando a fare i compiti del cespuglio bello tutto molto molto bello interessante divertente potresti per favore disputarmi una lotta di gavettoni con tutti loro il bambino sta andando a casa in bici no per favore vai qua grazie il mio Antonello per favore qualcuno mi assista senso di caldo io senso in realtà di altro lei ha cominciato la lotta volevo che partecipasse anche lui purtroppo non fa perché non c'è più spazio e intanto lui sta giocando da solo vabbè chi se ne importa eccoli qua che arrivano tutti divertitevi ragazzi va bene e vorrei allora a questo punto aspetta se io questo lo metto da qualche parte qua posso chiedere a lui di occuparsi del tavolo qua al parco metti in caso che quante granite mangia questo bambino diciamo puoi per favore occuparti del tavolo il coprifuoco sta passando che bello che bello tutta la merce si facciamo gli altri prodotti facciamo 10 dai così cambiamo facciamo per favore un bel occupati del tavolo se riusciamo io in realtà qua dovrei anche rifornire di prodotti dolciari ecco perché non lo posso usare perché devo comprare giustamente la cucina per fare le robe e allora sai cosa questo lo mettiamo nell'inventario così almeno siamo tranquilli sta andando a casa perché è passato il coprifuoco lei probabilmente sta andando a casa va bene questo lo teniamo qua poi nel prossimo episodio lo utilizziamo vediamo un po' che fanno questi due bambini credo si prenderà una bella sgridata dalla madre no sta chiedendo una favola della buonanotte che bello ok dovresti andare a farti una bella doccia intanto l'amico immaginario c'è fai la doccia e poi ti mando anche a dormire mentre lui che ha ha solo tanto tanto sonno quindi lo mandiamo come sempre a dormire loro due dormono nello stesso letto abbracciati avvinghiati la loro relazione sul rosso si odiano si sono separati di loro sponte senza che io non facessi nulla in realtà spiegatemi che problemi hanno riusciranno questi due a recuperare la loro storia la loro relazione il loro matrimonio a questo punto dobbiamo farli risposare è assurda come cosa e soprattutto riusciranno i nostri bambini a fare altre marachelle perché ne mancano alcuni in attivo e soprattutto cresceranno diventano adolescenti andranno all'università eccetera eccetera vedremo tutto questo nei prossimi episodi per questo episodio dove è successa qualsiasi cosa vi dico che è tutto io spero che vi sia piaciuto e se condividete mettete un mi piace iscrivetevi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate trovate come sempre qui il pulsante per iscrivervi ai altri due video io vi do l'appunto e entro la prossima vi dico ciao a tutti a tutti Grazie.